Richard III è innocente dell'omicidio dei principi nella torre, secondo un nuovo studio bomba.Richard è diventato noto come il re omicida d'Inghilterra, desideroso di ottenere e assicurarsi il potere. Era così affamato di potere che è stato descritto come disposto a uccidere chiunque si fosse messo sulla sua strada, anche i suoi stessi nipoti. L'evento è diventato noto come i principi nella torre. L'apparente assassino nel 1480 del deposto re Edoardo V e Riccardo di Shrewsbury, duca di York. Questi due fratelli erano gli unici figli di re Edoardo IV ed Elizabeth Woodville. Quando avevano rispettivamente 12 e 9 anni, furono alloggiati nella torre di Londra dallo zio paterno e onnipotente reggente il duca di Kloster, che in seguito divenne re Riccardo III. La mossa è stata presumibilmente fatta in preparazione per l'imminente incoronazione di Edoardo V. . Ma, prima che il giovane re potesse essere incoronato, lui e suo fratello furono dichiarati illegittimi e i ragazzi non furono mai più visti.Fino ad ora, non era chiaro cosa fosse successo esattamente ai ragazzi, con la teoria mainstream che suggeriva che fossero stati uccisi per ordine di Riccardo III. Ma, secondo i ricercatori, la reputazione di Richard è stata ingiustamente diffamata poiché il monarca, in effetti, non ha ucciso i suoi nipoti. La squadra, guidata da Filippa Lanli, che ha scoperto i resti del re sotto un parcheggio a Leicester, afferma che il principe Edoardo più anziano potrebbe non essere stato assassinato ma è stato invece autorizzato a vivere altrove sotto falso nome. Hanno esaminato attentamente una scia di documenti che li hanno portati in un villaggio nel Devon dove sono stati trovati simboli degli York. Nella chiesa locale punto all'interno, l'effigie di un uomo chiamato John Evans è stato trovato fissando una finestra di vetro che raffigura Edoardo V. I ricercatori nell'ambito del Missing Prince Project ritengono che il misterioso John Evans possa essere l'alter ego di Edward V. La loro ricerca li ha anche portati a indagare sul destino di Riccardo di Shrewsbury, di cui attualmente hanno diverse linee di indagine.